Valeria è un'ex modella, è molto importante ovviamente il suo aspetto, ma io penso l'aspetto per una donna è sempre importante a prescindere se eravamo ex modelle o no. Però ho pianificato anche una beauty routine molto efficace per la nostra amica Valeria. Allora, sono partita con siero, acido ialluronico a tre livelli e questo è un prodotto che agisce su tre livelli di profondità, perché lavoriamo con tre pesi molecolari diversi dell'acido ialluronico. Acido ialluronico è un bellissimo spugno molecolare dell'acqua che ci permette proprio per rimpolpare, stendere, rendere la pelle proprio più turgida, più giovenile in pochissimo tempo. È un siero da mettere la mattina e la sera prima della crema o notte o giorno. Volevo anche fare un vero e proprio effetto rigenerante. Per rigenerare la nostra pelle c'è il Dermaroller, questo è un piccolo kit di bellezza perché il Dermaroller aiuta a stimolare i fibroblasti, a rigenerare il collagene in modo meccanico. E dall'altra parte abbiamo il nostro gel 2.1, effetto liftante e rigenerante. All'immediato vedremo un effetto lifting già entro 5 minuti e poi avremo l'effetto benefico proprio di avere un effetto prolungato del ringiovinimento del nostro volto per sentirci e vederci sempre più bella. Dermaroller lo sto usando due volte alla settimana, lo uso prima di mettere il siero che adoro e ogni volta che lo utilizzo sento un sollievo, sento la pelle che si risveglia. È quasi un... mi rigenera, mi rigenera la pelle e sento che la pelle è molto più porosa nel senso che cattura molto più facilmente tutte le meravigliose cose che metto dopo, quindi il siero e quindi mi aiuta tantissimo. E vado, bello tranquilli. Potete anche sorridere, vi vedo un po' di più così, più a così. Occhio, facciamo. 4, 3, 2, 1, singolo giro destra. And 4, fermi qua, fermi qua, fermi qua, fermi qua. And 4, 3, 2, 1, 4, 3, con i singoli. Viaggio, 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 guarda il giume. 4, 3, 2, 1, 4, 3, torniamo di nuovo. Per più ore possibile, perché Valeria ha preso sia il kit da giorno, sia il pigiama di sera, così può trattarsi il più possibile tutto il corpo, dalle gambe, interno cosce, glutei per drenare, tonificare la pelle, migliorare la qualità della pelle, perché stiamo parlando di un cosmetto tessile, ok? Che veramente dà risultati. Tutto questo è il percorso di Valeria. Come ti trovi con Be Good? Be Good, benissimo. Benissimo, è una specie di coccole, come se mi sentissi avvolta in qualcosa di fresco, pur non essendo poi leggerissimo, perché mi già fa caldo da morire a Roma, però non avverto il caldo, non sudo e mi sento già più magra. Con Be Good mi sono trovata benissimo anche per quanto riguarda la pelle, l'ho vista più luminosa, più drenata, più fresca. Anche più tonica? Anche più tonica e devo dire, pensa che l'altro giorno una mia amica che non vedevo da un po' di tempo non riusciva a riconoscermi, eravamo tutte e due con la mascherina, io l'ho riconosciuta, lei mi ha detto, guarda io non ti riconoscevo perché mi sembravi molto più giovane e più tonica. Non mi sembrava che fossi tu, però sembrava una che assomigliava a te, quindi è stato bellissimo, è stata una riprova incredibile. Su, su, su. Allora i miei fumatori devo fumare di meno, cambiamo le scarpe, non saltiamo con le gambe rigide, ok, bambino viziato, no, quello shakerato, ok. E noi andiamo a fare dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, stop! Il trampolino è un'iniezione di energia, di, non lo so, di positività, ogni volta che salgo sul trampolino so che dopo averlo fatto, anche solo per venti minuti, di solito lo faccio un po' di più, mi sentirò bene, mi sento stanca quel giusto, ma molto, molto energica e molto, molto felice, molto pronta a fare quasi tutto. Salta, ricupera, respira, chi mi ama? Io! Ok, ancora? Eccomi qui al mare con i miei cani e appena fatto un meraviglioso allenamento base di trampolino, stupendo, stupendo perché ho sudato, mi sento più energica, sento tutti i muscoli che reagiscono e che hanno, che, insomma, che hanno lavorato e questo per me è fantastico. Chi mi ama? Io! Eh, eh, chi mi ama? Io! Oh, oh, chi mi ama? Io! Sì, che è Yes I? Yeah! Brava. Yes I? Yeah! Yes I can insieme! Un, due, tre! Yes I can! Eccoli, appena finito l'allenamento Tabata, bellissimo, era da un po' che non lo facevo, facevo fluid, ho fatto tante cose, combat, ma Tabata è veramente fantastico e mi sento felicissimo, veramente radiosa e sono pronta ad andare sulla luna dopo questo. Ciao a tutti! Con Yes I can devo dire che i risultati che io avevo, che io avevo immaginato sono superiori a quelli sperati, sono, mi sento molto, molto più energica, più, più positiva e più, più pronta a dire no, anche, che è importante nel mio caso. Se, cinque, quattro, tre, leg, curl, up and back, ok, sto provando di toccare il talone su ginocchio, su gluteo, scusami, su gluteo, ciao. Mi sento ringiovanita anche ed è importante, non perché l'età sia importante, però proprio per come affrontare la giornata e i vari, anche piccoli problemi che capitano quotidianamente. Mi piacerebbe dire una cosa a tutti quanti, ragazzi, i sogni sono sogni, con molto dolcezza, è detto, sembra una cosa banale, un sogno non è mai banale. E dico anche un'altra cosa, noi, io sono convinta di questo, che siamo sulla pianeta Terra in questo preciso istante, questo preciso anno, questo preciso epoca, per svolgere un'azione, un'missione. L'ammissione, però, potrebbe essere davvero una singola persona o centinaia di migliaia di persone, noi non sappiamo mai. Se torno indietro e penso a quando mi allenavo, era un periodo meraviglioso. Facevo il liceo, mi allenavo, studiavo anche violino perché la mia nonna era concertista, quindi, così, era un momento in cui pensavo di poter andare in quella direzione e riuscivo a fare tutto. Io non sono una che fa qualsiasi cosa, faccio, la fa benissimo, però era un periodo, posso definirlo, di grazia, perché le endorfine, penso, che ricevevo dal fare lo sport mi aiutavano tantissimo. Il sogno potrebbe essere la tua missione su questo pianeta Terra. Infatti, quando io parlo con i grandi gruppi, io dico, io non devo cambiare le vite di tutti. Io, anche se tocco una singola vita, una singola volta, per ogni volta che giro, piano piano, quella persona, magari io tocco una persona e io aiuto a ritrovarsi, a sentirsi meglio, a crescere, e magari quella persona poi diventa la più grande motivatoria del mondo, diventa Steve Jobs della motivazione, non lo so. Però ricordate sempre che noi tocchiamo le vite che stanno intorno a noi e l'unica cosa che conta è il rapporto interpersonale, è l'amore, è la carità, è la gentilezza, è la generosità, null'altra. Perché abbiamo una vita, arriviamo da soli e partiamo da soli, è l'unica cosa che portiamo con noi. Non sono soldi, non è il lavoro che abbiamo fatto, non è i vestiti che abbiamo indossato e neanche gioielli, è soltanto il cuore che abbiamo toccato. Le persone che piangeranno la nostra partenza. Dunque, in questo progetto di poche settimane, perché abbiamo avuto poche settimane, dal punto di vista umano è cambiata, devo dire che sono cambiate molte cose, soprattutto devo dire che ho trovato un gruppo bellissimo qui, un gruppo bellissimo, delle persone stupende. Dal punto di vista umano mi sono resa conto che siamo in molti ad avere bisogno di riappropriarci di noi stessi e quindi l'unione fa la forza. Alla fine! Alla fine! Alla fine! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.